Proprio ieri Fratelli d'Italia chiedevano incontro agli assessori forte del risultato delle urne e oggi il Movimento 5 Stelle sferra un attacco. Dove erano quando Sulmona veniva depradata? Si chiedono i pentastellati in una nota. Escludendo la semplice demagogia politica non riusciamo a comprendere la richiesta della loro avanzata, in quanto essendo Fratelli d'Italia rappresentata politicamente nell'amministrazione comunale, possiede già tutti gli strumenti per poter interloquire politicamente con l'amministrazione attiva un bene per la città mai manifestato in precedenza. Forse Fratelli d'Italia Sulmona ha bisogno solo di affermazioni elettorali per muoversi politicamente in nome del bene comune della città. La latinanza politica o se si preferisce l'assordanza e il silenzio di Fratelli d'Italia sui problemi della nostra città è il frutto di una serie di problemi che avrebbero visto la soluzione solo se avessero avuto questo senso di responsabilità da almeno tre anni a questa parte, semplicemente confrontandosi con i loro rappresentanti al governo regionale. Dove era e cosa stava pensando Fratelli d'Italia quando il neo eletto assessore allo sport privava la nostra città a favore dell'Aquila dei campionati europei di pattinaggio a rotella, incalzano i pentastellati? Dove era e cosa stava facendo Fratelli d'Italia quando il presidente della regione calpestava la decennale battaglia di questo territorio contro la centrale SNAM? Forse più che al senso di responsabilità pensava alle proprie economie politiche, suggeriamo ai colleghi di Fratelli d'Italia di non confondere le elezioni politiche con le elezioni amministrative, perché se così fosse, se è vero che loro sono risultati il primo partito in città, è vero anche che il Movimento 5 Stelle ha risultato il secondo. Entrambi però sappiamo che non è così, che si tratta di due momenti elettorali diversi tra loro.